Un dipinto delizioso di un artista raffinatissimo, Aldo Nicolini. Un'opera di grandi dimensioni, un metro per un metro, ma di grande qualità. Un artista particolare Nicolini, giovanissimo, entra nello studio di Mario Schifano e apprende i segreti della grande pittura gestuale. I suoi due grandi amori sono stati da una parte Van Gogh, dall'altra parte Mario Schifano. E con due esempi simili ha avuto la capacità di misurarsi per tutta la vita costruendo una sua delicatissima personalità. Nicolini era un innamorato della poesia, era un innamorato della letteratura, era un innamorato della raffinatezza intellettuale e visiva. Oltretutto era anche un buon gustaglio, un cuoco estremamente raffinato. Amava le cose belle, amava la vita, amava la bellezza, amava la sincerità. Tutto quello che vedete in questo delizioso e raffinatissimo dipinto, dove c'è la grande citazione di Van Gogh, dove c'è la grande citazione del suo maestro ideale Mario Schifano, ma c'è tutta la sua personalità, c'è tutta la sua capacità di raccontare la poesia della vita, un'opera di una raffinatezza straordinaria a un prezzo piccolo 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 piccolo. Ecco come mettervi in casa una raffinatissima poesia, un esempio di grande pittura a un prezzo veramente modestissimo. Alla vostra attenzione. Grazie. 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 Grazie.